L'avvocato Augusto Fierro è il nuovo difensore civico della Regione. Il suo compito è quello di tutelare il cittadino su carenze, disfunzioni, abusi o ritardi di pubblici uffici o gestori di servizio. Il difensore civico è nominato dal Consiglio regionale ogni tre anni e può essere riconfermato per una sola volta. Il difensore civico è sostanzialmente il garante dei principi della buona amministrazione e della trasparenza. Un aumento, un incremento che si è registrato dell'accesso agli uffici del difensore civico da parte dei cittadini del 64% nell'ultimo anno, quindi un aumento davvero significativo e un segnale positivo perché indica che i cittadini conoscono di più la possibilità di rivolgersi a questo ufficio. Non sempre e non necessariamente i cittadini hanno ragione, in molte occasioni sì. Il difensore civico è un ufficio che attraverso gli strumenti della persuasione e della sollecitazione sicuramente può fare molto. Gli uffici del difensore civico sono a Torino in via San Francesco d'Assisi 35 e sono aperti al pubblico da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00. Telefono 011 5757387 Informazione sul sito www.cr.piemonte.it Sezione per il cittadino